buongiorno sono il dottor altieri urologo andrologo oggi vi parlerò di calcolosi delle alte vie urinarie la calcolosi dipende da una precipitazione e aggregazione di alcune sostanze cioè sali minerali presenti normalmente nelle urine e descreti in maniera accentuata dai reni questa aggregazione comporta la formazione di sassolini che possono essere più o meno grandi e uscire dal rene e andare a finire in quel tubicino che collega il rene alla vescica e che si chiama oretere provocando la colica renale la colica renale il dolore che il paziente avverte quando il calcolo ostruisce il passaggio di urina e quindi la distensione renale crea questo fastidio questo dolore al fianco che poi si irradia anche anteriormente le cause della calcolosi possono essere multiple diciamo che i fattori più importanti sono i fattori metabolici quindi legati alla dieta legata ad alterazioni delle delle sostanze metaboliche prodotte dal nostro organismo oppure fattori di tipo ostruttivo anatomico quindi se ci fosse un'ostruzione meccanica c'è qualcosa che impedisce alle urine di passare agevolmente attraverso la nostra via urinaria fino ad arrivare alla vescica il ristagno di urine può provocare la formazione di calcoli essenzialmente i calcoli sono di ossalato di calcio e di acido urico oppure misti poi esistono altre forme più varie ci sono alcune tecniche per riconoscere il tipo di calcolo come l'imaging come degli esami metabolici da eseguire mentre per quanto riguarda il trattamento esistono differenti tipi di trattamento oggi grazie alla mini invasività della chirurgia e della tecnologia diciamo che il trattamento è quasi sempre per via retrograda cioè quando il calcolo è fermo nell'uretere quindi nell'alta via escretrice noi riusciamo a rompere il calcolo passando quindi attraversando la vescica e salendo al rene per via naturale rompendo il calcolo con l'utilizzo di un'apparecchiatura laser e quindi estraendo i frammenti rotti all'esterno in alcuni casi è necessario però intervenire dal fianco quindi andando direttamente nelle cavità renali quando la calcolosi si manifesta in maniera più aggressiva quindi quando i calcoli diventano a stampo cioè vanno a riempire tutte le cavità renali e superano addirittura i 2-3 centimetri di diametro occupando tutto il rene in quel caso bisogna intervenire dal fianco con una procedura che si chiama nefrolitotrissia per cutanea perché appunto prevede un'incisione di circa un centimetro sul fianco del rene coinvolto e l'ingresso della strumentazione endoscopica mini invasiva direttamente dal da questa breccia creata chirurgicamente in maniera da aggredire direttamente il calcolo con una tecnologia avanzata che ha la funzione di rompere ed aspirare queste pietre diciamo che danno fastidio al nostro corpo naturalmente al trattamento chirurgico che si esegue in una fase diciamo in cui non si può fare altro va seguita sicuramente una dieta bere tanta acqua e soprattutto è importante correggere anche delle abitudini di vita errate quindi bisogna che si ci confronti con il proprio urologo di fiducia per capire quale possono essere le criticità da diciamo correggere per migliorare il proprio stile di vita e quindi cercare di evitare la calcolosi urinaria spesso anche con l'aiuto di alcuni farmaci integratori che hanno il compito di alcalinizzare le urine quindi aumentare il ph ed evitare così la precipitazione dei cristalli